Il tiro con l'arco Noi organizziamo due gare nel corso dell'anno, due gare indoor, quindi vuol dire all'interno di una palestra alla distanza di 18 metri e le organizziamo nella palestra del liceo scientifico. Oggi ne organizziamo una a marzo e una a novembre. Generalmente le organizziamo nella palestra del liceo scientifico Torelli di Fano. Questa di oggi che è del 18 di novembre, siccome la palestra è in ristrutturazione abbiamo trovato come alternativa la palestra annessa alla scuola elementare di Bellocchi perché la palestra deve avere una capienza adeguata per contenere almeno 12-13 paglioni. In questo caso la palestra è un po' più piccola, ce ne stanno 11, con la partecipazione di una cinquantina di arcieri a turno. Gli arcieri vengono un pochino da tutte le regioni italiane, soprattutto le limitrofe e i marchigiani. Nel periodo estivo invece come si svolge l'attività della compagnia? Per il estivo noi siamo alla pista di atletica Zengarini. Abbiamo una zona nostra riservata e organizziamo anche dei corsi di tiro con l'arco. Abbiamo degli istruttori, abbiamo archi scuola, attrezzature per poter organizzare questi corsi. Un tempo quando eravamo un po' più giovani organizzavamo anche la famosa gara Elfita che è la gara all'aperto perché il posto è bello, è solamente che l'impegno è così tanto che ultimamente abbiamo dovuto un po' desistere quindi continuiamo con le nostre due gare indoor e quindi in palestra. La compagnia si finanzia in qualche modo? La compagnia non ha sponsor, si finanzia con le proprie tasche diciamo. Noi mettiamo una quota mensile e con quella andiamo avanti, facciamo tutti. Quindi ci autofinanziamo, nessuno ci aiuta. Va avanti solo con la passione per il tiro con l'arco? Va avanti con la grande passione del tiro con l'arco e comunque ci stiamo dentro. L'importante è divertirci e far divertire anche chi partecipa a queste gare. Grazie mille, in bocca al lupo per la gara e per tutto il resto. Grazie, un saluto a tutti e venite e partecipate.